Nazioni Unite di Brindisi, l'ONG Un Ponte Per e con il sostegno dell'Ambasciata in Baghdad, ufficio di Erbil. Ha permesso la distribuzione di attrezzature e kit sanitari contenenti farmaci di base per una popolazione di 20.000 persone per un periodo di tre mesi, nonché di kit per assicurare una prima assistenza a pazienti traumatizzati. Quello dell'accesso umanitario in Siria rimane certamente un problema molto serio. Da parte nostra continueremo a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze delle popolazioni kurde che si trovano in aree di difficile accesso, come quella di Rojava. Per questo la nostra cooperazione è attualmente impegnata a finalizzare, sempre in collaborazione con ONG Un Ponte Per, l'organizzazione di una nuova spedizione di genere di prima necessità e di materiale sanitario. Grazie. La ringrazio, Sottosegretario. Il deputato Franco Bordo ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Dieci minuti. Grazie, Presidente. La ringrazio, Sottosegretario, per la sua risposta. Una risposta che evidenzia che il Governo italiano non è insensibile a quanto da noi sollevato e segnalato. Con dovizi particolari ci ha illustrato appunto cosa si sta facendo, cosa è in essere in questi mesi, sia sullo scacchiere diciamo europeo, sia direttamente, in modo particolare per quanto riguarda l'intervento umanitario gestito appunto anche con le ONG. Noi questo lo apprezziamo, però dobbiamo rilevare anche che, stando la situazione che sostanzialmente vedo che lei non ha potuto voluto smentire la nostra esposizione, la nostra raccolta di informazioni, la nostra documentazione nostra e di soggetti indipendenti in modo particolare, una documentazione che attesta la gravità della situazione. Una gravità che ovviamente riguarda popolazioni, in modo particolare la popolazione turca di etnia kurda in questo momento, ma perché è pesantemente colpita da questa recrudescenza del conflitto e in modo particolare popolazione civile, perché di fatto poi vengono colpiti quasi tutti i civili. Voglio ricordare che il PKK, in virtù degli accordi o comunque della fase di costruzione degli accordi, ha tenuto e sta tenendo ancora fuori dal territorio turco tutte quelle che sono le sue organizzazioni militari, sostanzialmente. Per cui oggi quella che è definita appunto una risposta alle provocazioni, agli attacchi, alle misure non proporzionate, come appunto lei ci ha ricordato nel suo intervento da parte delle forze di sicurezza turche, per cui non proporzionate vuol dire assolutamente sproporzionate, perché è sicuro quello che ciò che anche sottoscritto ho potuto vedere di persona, si sta parlando di utilizzo di armi, anche armi pesanti, armi da guerra sostanzialmente, direttamente in centri urbani, direttamente su popolazione civile. Ecco, quella che possiamo definire una forma di autodifesa è gestita esclusivamente appunto da soggetti civili, da curdi civili. Ecco, di fronte a questa situazione, volevo dire, la gravità non è soltanto appunto in quello che sta patendo oggi quella popolazione, nel rischio di non poter esercitare il proprio diritto di voto, che sarebbe una cosa, voglio dire, molto pesante, ma anche per quanto riguarda appunto i possibili scenari che possono evolversi in quell'area che è particolarmente, voglio dire, difficile, complessa, come ovviamente lei sa. È per quello che allora dico, per questi due aspetti, per la difesa dei diritti civili e politici, di poter esprimere il proprio voto e lo scenario di una escalation all'interno di quell'area, dal nostro punto di vista dovrebbe far sì che oggi il Governo italiano, insieme anche a altri governi europei, insieme all'Unione e insieme al Commissario Mogherini alzasse il livello, diciamo, di pressione, di confronto con il Governo turco perché appunto questa escalation venga assolutamente, anziché inalzata, appunto possa avere un processo di arribasso per questa escalation di violenza a cui stiamo assistendo. In modo, ecco, l'occasione delle elezioni dovrebbe essere, dal nostro punto di vista, un'occasione per cui in questo mese noi le chiediamo appunto che il suo Ministero sia più pressante perché appunto verso il Governo turco utilizzi tutte le forme possibili, diplomatiche, perché venga garantito il voto in tutte le aree del Paese. Questo sarebbe un segnale, dal nostro punto di vista, anche, voglio dire, di una ripresa di distensione di un clima. Altrimenti, di fronte a un confronto elettorale democratico, avvenuto in modi democratiche il 7 giugno, con un esito di un certo tipo, oggi si fa saltare il tavolo e si cerca di conseguire un successo elettorale impedendo a centinaia di miliardi di persone di non andare al voto o con un'intimidazione clima di violenza in aree importanti del Paese, è chiaro che, voglio dire, si rischia anche di barare il confronto elettorale stesso. Noi chiediamo che un Paese democratico come l'Italia sia più presente e più pressante appunto nel confronto del Governo turco, che, voglio ricordare, è uno Stato alleato del nostro Paese, di cui appunto fa parte di uno scacchiere di alleanze del nostro Paese. Noi possiamo tollerare che uno Stato alleato del nostro Paese impedisca a centinaia di migliaia di persone di andare a votare. Possiamo tollerare che appunto abbia un sistema di risporta politica e militare di questo tipo a un problema che è il problema appunto del riconoscimento di autonomia della popolazione kurda in un processo di autonomia del Kurdistan turco. Ecco, noi penso che non possiamo tollerarlo, per cui lo sforzo, chiudo, che noi chiediamo di essere veramente oltre, ad esempio suggeriamo che oltre alla delegazione Oksher ci possano anche essere altre presenze da parte anche sul territorio turco durante le elezioni. Il sottoscritto insieme a qualche altro parlamentare si recherà volontariamente in Turchia in quei giorni ovviamente per fare da osservatore internazionale volontario per verificare se appunto quanto è stato dichiarato nella nostra interpellanza appunto è venuto o meno, cioè l'impossibilità di esprimere il voto oppure se invece è stata modificata. Noi chiediamo che anche il Governo italiano sia appunto più presente, più pressante verso il Governo turco. Ci sono gli strumenti per farlo? Vanno attivati. La ringrazio. La ringrazio. Così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza urgente all'ordine del giorno. Comunico il Presidente del Consiglio dei Ministri con lettera in data 1 ottobre 2015 che ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla quinta Commissione bilancio. Conversione in legge del decreto legge 1 ottobre 2015 numero 154 rigante disposizioni urgenti in materia economico sociale. Parere delle Commissioni 1, prima, seconda, settima, ex articolo 73 comma 1 bis del regolamento, ottava, decima, ex articolo 73 comma 1 bis del regolamento e undicesima della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il suddetto disegno di legge ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del progetto articolo 96 bis è stato oltre sia assegnato al Comitato per la legislazione. Do quindi lettura dell'ordine del giorno e della salute di martedì 6 ottobre 2015 ore 10.30, svolgimento di una interpellanza e interrogazioni, ore 12, seguito delle discussioni e mozioni concernenti iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori e confronti gli operatori del mercato.